Argomento assolutamente di curiosità, ma sempre nel ramo gossip, perché vogliamo capire chi è la figlia di Milena Miconi, perché Milena Miconi la conosciamo molto bene, visto che stiamo seguendo il grande fratello Whip. Insomma, la sobretta è una delle donne più belle nel panorama nazionale, e da qualche settimana ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Quindi è per questo che lo sappiamo, perché la stiamo seguendo all'interno della casa. Ovviamente, adesso che è sotto i riflettori, l'attenzione del pubblico del GF Whip si è catalizzata sulla Vippona, e quindi molti telespettatori sono alla ricerca di informazioni sulla sua vita privata, e chi spunta dalla sua vita privata, la figlia. Nel 2019 Milena Miconi ha deciso di sposare, dopo ben 18 anni di vita insieme e due figlie, Mauro Graiani. Il loro è stato un matrimonio semplice, sobrio ed elegante ed è stato celebrato alle terme di Caracalla. Poi è stata organizzata una festa nella villa di Veio insieme a parenti e amici e ovviamente alle due figlie, Sofia Graiani nel 2003 e Agnese Graiani, nata nel 2010. Prima della sua nascita, vivevamo un amore a distanza. Io vivevo a Roma mentre lui che è ligure si spostava tra Genova e Milano, dove gestiva il suo lavoro. Poco prima dell'arrivo della nostra primogenita, ha lasciato Genova e si è stabilito da me, ha spiegato Milena Miconi in una intervista concessa al settimanale di Più TV parlando della primogenita Sofia Graiani. Sofia Graiani è la primogenita di Milena Miconi e il marito Mauro. Capelli rossi, occhi grandi e il sogno di diventare attrice. La somiglianza con la madre, da qualche settimana al grande fratello Vip, è impressionante e come raccontato dalla madre in più occasioni, dopo il diploma al liceo Gaetano de Sanctis di Roma ha iniziato a studiare recitazione. Sui social di Milena Miconi la figlia Sofia Graiani appare spesso e ovviamente i commenti e complimenti sono sempre tantissimi. E il DNA non mente, perché per l'ex Subret, classe 1971, il tempo non sembra essere passato. Sui social sono tantissime le foto in cui mostra il suo fisico perfetto e la sua bellezza. Di recente Milena ha pubblicato un video per festeggiare il compleanno della figlia.